Uno dei temi che ricorre è quello del credito, il credit crunch che riguarda soprattutto le imprese, le piccole e medie imprese. Qua la nostra proposta in qualche modo riprende il dibattito che è in corso di ripresa e separazione dell'attività bancaria tra quella tipica bancaria e quella di tipo speculativo, semplicemente non creando due realtà giuridicamente distinte quanto introducendo una tassazione differenziata tra il reddito generato sulla banca, per intenderci dall'attività tipica caratteristica di erogazione di prestiti alle imprese, rispetto il reddito che presso questa banca viene generato dall'attività speculativa e di investimento ad esempio sui titoli di Stato. In questo modo, senza introdurre un obbligo sulle aziende di credito ma introducendo un incentivo a fare quello che dovrebbero fare le banche, cioè prestare finanziamenti a imprese e famiglie e disincentivando sotto l'aspetto della tassazione quella che oggi è diventata la comoda attività e più semplice attività di contrarre prestiti presso la Banca Centrale Europea all'1% e investirli in titoli di Stato che possono rendere fino al 3 euro.